Namadò stiamo girando gli Stati Uniti d'Ameria Oh, i States sono belle, guarda qua che ci sono i fiumi, porco Dio Porco Dio, ma a me sembra di stare in Italia Oh, bisogna stare attenti che ci sono bestie, gente armata Ma in telemarche, in telemarche la gente è proprio... Oh, una pistola, guarda, guarda, una pistola, porco Dio Ma che cazzo, eh Una pistola, porco Dio Questa è una pistola di pistola, sa? Andiamo a chiamare i carabinieri, la facciamo, andiamo, 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 andiamo